Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della serie della mappa Solsnovka. Oggi sono in conveniente di Sebastiano come al solito, Sebastiano hashtag nuova farm. Oggi andremo a tagliare un po' di alberi bastardi e volevo farci parte di questi alberi bastardi. Oggi che si fa? Cipato di alberi. Cipato di alberi basta, vabbè, basta con le parole, se no qua è fuori macello. Bene, ho dato i soldi a Sebastiano. No, devi prendere il tuo cipatricio, ho dato i soldi. In un tanto vado allo shop e mi prendo il nostro bel fast track. Ah ma ma qua macchina. Stacc non se la fa. Eh ma ci metto un casino dai. Se la fai tranquillo. Vabbè. Vabbè. Non c'è qua vicino la cipatrici tanto. Cominciamo nelle roba di qua vicino lo so. Bene, prendiamo il carro qui. Allora, il carro dove va? Il carro dov'è? Sì, che sono due baltabili. Ecco qui. Bandit 78 mila euro. Mizziga. Iniziamo nel question shop. Yes. Ripristiniamo un camion qui. Secondo me è quello di Sebastiano ripristinato. Infatti, no, questo è il mio. Questo è il mio. Perché io sono lezzo. Ci sono anche un offerto di cipato, non so quando. Vado. Un attimo che vado. Questi non si possono tagliare. Ovvio che non si possono tagliare. Ma come non si possono tagliare? Aspetto. Si che si possono. Quella Scorpio non si possono tagliare. Intanto qua dobbiamo la cipatrici. Si che si possono tagliare. Va. Ma dai. Guarda che dettaglio. Lezzo. Guarda, li taglio. Io perché sono lezzo. Oh, li taglio. Sono lezzo. Oh, sono lezzo. Li taglio. Aiuto, questo mi ammazza. Allora. Quando cerchiamo di tagliare un po' di rami qua. Che rompono solo le scatole. Si è buggata la motosega. Non lo so. Lag un botto. Ehm. Non so. Non so che faccio. Aspetta che chiudo sta cartella. Sono stilabili bastanti qua che fanno laggare. Punto pari di ping. Cento ma laggo. Eh. Non so che faccio. Mi dispiace. Non sarebbe di qua che fanno laggare. Scuola, io taglio. Mi sono rotto. Mi sono rotto le balle. No. No. Basta. Mi hai rotto anche tu. Ma hai rotto! Poi siamo, se non ci vai adesso. Guarda non so che ti faccio. Ah, ecco. Mi sei anche scomparuto adesso. What? Un posto. Guarda quanto siamo di percentuale. 11%. Oggetto troppo pesante Gli butto di là questi che si possono prendere Intanto vado a prendere il nostro caro Lambo Aspettate eh Se ci riesco sono un pro Adesso non ci riesco quindi Dai No è impossibile adesso casca Mamma 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 Adesso questo ride un po' Ok dai ci riesco adesso sono un pro dai No ragazzi sono un pro Sono un pro Non è impossibile dai sono un pro ragazzi È impossibile farlo la prima È impossibile Sì infatti adesso lo spacco tutto Eh si incastra ragazzi Qua si incastra Quindi bisogna tagliarlo Comunque l'ho buttato dentro alla prima Sembra un doppio senso epico Però così è Scusate ragazzi c'è un po' di raffreddore Scusate Ok questo va Questo Oh 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 Ah che mi serve Oh C'è un po' di raffreddore Se fosse una cosa lezza di sto tipo Se non così Ma perché mi lagga Dai perché Mi lagga il gioco Non so cosa abbia Dai Dai Così Dai così Ah il giorno dopo devo farti una proposta importante Ok Scusate la dico ora ma devi mettere in pausa la rec Ok No dai dici dopo va che se no è un casino Qua quanto siamo 34% 34% Fa tutto costo No che non è tutto a posto Ma vedo Vedi c'è cosa per i vari veicoli Si Lo Vendo Ho capito si lo vendo ho capito perché rompe il il cazzo in poche parole rompe il cazzo no 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 fatto venduto e se non ti rompe più ok sono dentro al tronco io ok tutto normale la geofarm 05 si può si può essere dentro ai tronco ok ragazzi questo è per un altro trattore col caricatore eh si ragazzi per un altro trattore col caricatore ragazzi si si ragazzi anche troppo se lo prendo ragazzi questo c'è il caricatore si che ce l'ha massimo larghi design warrior si può compra si adesso qua la grappe che ho acquistato caricatori frontali facciamo rosso facciamo il colore del deutz questo colore del deutz ma si chi se no ci vuole anche la forca per i tronchi che è in fondo ok ma il giorno in cui ti è venuta in meno questa serie stavi male per caso? no perchè lo sono di mente ero completamente ma perchè è nero? ah si è warrior ah si sto diventando malata sto diventando malata a farla però eh ok aspettate ragazzi che adesso devo modificare qui si sia la pinza che il caricatore perchè è brutto vedere così ok what mettiamo nero configura no ancora forca per i tronchi dai ho fatto una cazzata ho fatto una vera cazzata ragazzi ok ragazzi così è meglio dai così è meglio puoi comprare un trattore se lo hai il nome non è brutto quindi lo è e mondo 1 con questo ok il 930 non ha il non ha il non ha il caricatore infatti eh ho questo o questo o il coso lì intanto ciò se bastiamo nella cabina ok tutto normale tutto normale ragazzi in farming un puma ma va piano il puma ma il puma va piano ma il puma va piano aspetta 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 adesso adesso che lo vedo con gli pneumatici stenti adesso si incazza scusa 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 se devo farlo no perchè lo modifica ragazzi vediamo se ci riusciamo a primis e ci riusciamo a primis e ci riusciamo a primis e amore madonna ho visto il un modo esaltato il puma che è saltato adesso non si stacca perchè gli vuole bene eh infatti gli vuole bene vedete che non si stacca gli vuole bene ben ragazzi qui Sebastiano sta andando avendo il primo carico vai vai io lo seguo con la macchina intanto il farm per ora non lo vendi abbiamo bisogno di soldi abbiamo bisogno di money abbiamo bisogno di money e qua la macchina è il suo beppi che si andà accattare i nevodi guarda che lì ho chiesto spinto guarda che lì ho chiesto spinto dai mi leggo un po' intorno a cabina ma fa niente guarda che lì ho chiesto spinto cos'è questa l'izzitudine no dai non lo scrivo non lo scrivo vediamo quanti money ci danno c'è una settantacinque vediamo guarda soldi 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 ma per poco arriviamo a 190 mila 30 mila euro vediamo quanto è il prezzo adesso riscaldamento il chip pad 456 il centro di giardinaggio 482 ok dai torniamo ai nostri affari intanto io corro più veloce sempre se non sbando la macchinetta di prima maffanculo mi hai rotto arrivo prima io arrivo prima io arrivo prima io lezzo lezzo e volevi la g no bene bene tanto qua voglio fare una cazzata tanto la macchina di sebastiano quindi non devi fare bene nessuno della sua macchina vediamo se si riesce no va troppo piano va troppo piano questa macchina lezza e volevi questa macchina lezza va piano questa macchina lezza va piano capi capite questa macchina lezza va ups fortuna che non c'è fortuna che non c'è ragazzi fortuna che non c'è fortuna che non c'è ah no aspettate un attimo aspettate un attimo aspettate un attimo aspettate un attimo è quasi tutto lezzo qua posso farmene tutto lezzo oggi questo non cade vabbè tanto noi prendiamo il nostro il nostro che la dexter dov'è non ho preso lui no vabbè noi ci prendiamo il puma voglio vendere un albero intero sì eh sì voglio vendere un albero intero intanto lo buttiamo giù con un colpettino 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 colpettone però vabbè e polpettone betulle mi sa che la pagano bene anche perché guardate è anche si va anche bene a trasportare betulle qua c'è anche una betulle questa sì aspetta che apre un po' qua ok tutto ok ok cipiamo vendiamo vado a al vicino a l'ugheria il cippa che io vendo no perchè vediamo se si riesce no, non entremarcia, voglio andare avanti vediamo quando ci danno proprio la betulia entro io ci danno un bel po' di money ops ho un clac, sono scrause però sto sto case lampeggianti, erano già accesi, lezzo no oh porca vacca e poi li sto dicendo, sono 921 aspettavo di più però vabbè mi aspettavo di più, non se l'aspettava non se l'aspettava lezzo vediamo che questi va che tanto mal non fa che tanto li spingiamo in acqua, questi tanto è facile, vediamo quando ci danno per questo pezzettino qui vediamo 3 euro dai, 3 euro, bene 3 euro che che vada a farsi dai 3 euro per delle roba c'è ma chi è che bello figo forse si fa dai 3 euro per vendere a vendere le scopre per strada forse non lo so vabbè qua stiamo facendo robe strane, il case però vabbè 947, ben dai va bene dai attivare gli alberi come questo adesso andiamo a tagliare danno di più in teoria in teoria questi danno di più però sono anche più rognosi sono rognosi questi si si che hanno tanti danni almeno cascano bene questi a parte che si va anche bene a spingerli questi ma vai almeno che si è bloccato beh tanto andiamo avanti lo stesso perché qua case non muore mai ok 2856 queste robe di qui rendono bene ragazzi queste robe di qui rendono bene quindi come verrebbe quasi quasi non ci parli aspetta vi ne vedete aspettate che in chi c'è i superpoteri vediamo se si riesce vediamo se si riesce volo volo finiamo con una cosa cioè finiamo con una cosa cioè 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 intanto vado a farmi la nuotata che tanto questo caldo gareta ok ok il percorso lo faccio io ok il percorso lo faccio io con il percorso lo faccio io con le macchine arrivo con l'aminta o shop e riscaldamento seguendo la strada un attimo un attimo che arrivo tutta dritta tolgo il tolgo il e si infatti adesso quello che voglio fare aspetta un attimo trafico no trafico no alle 42 alle 42 si parte dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai che ci siamo manca poco ma so che manca poco non devo distrarmi cavolo vaffanculo mi hai rotto mi hai rotto gazz aspetta però va non bambi ooooh eh giofarm05 ritorna ooooh ci stanno daaa mamma mamma che rientro che ho fatto alla zio alfix rientro alla zio alfix rientro alla zio alfix no 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 Nop! 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 Finale shop dai! No, è da qua dai! Finiamo dai, va bene dai! Comentate, scrivetevi, lasciate un bel like! Ciao a tutti e al prossimo video! Ciao! Non mi sono dimenticato di ringraziare Sebastiano! Vabbè lo ringraziamo, lo salutiamo, ci vediamo al prossimo video! Ciao!